Dopo l'appello accorato dei balneatori sui parcheggi e sul caos e multe soprattutto alla domenica, l'idea di posteggiare sulla strada parco viene valutata positivamente dal sindaco di Pescara Carlo Masci, mentre a Montesilvano si tentenna. Il neoprimo cittadino Masci riproporrà la sosta a pagamento sulla strada parco Pescara-Montesilvano nei weekend da luglio e di seguito tutti i giorni da fine luglio a ferragosto, ovviamente nel tratto pescarese, per consentire ai bagnanti di raggiungere più agevolmente il mare. Masci fa sapere inoltre che sarà abbassata la tariffa dei 3 euro giornalieri nel fine settimana e si sta pensando ancora di più negli altri giorni. Anche le date variano rispetto allo scorso anno. Secondo la proposta si potrà parcheggiare tutti i giorni dal 20 luglio circa al 20 agosto, mentre dal 1 luglio solo il sabato e la domenica. Per quanto riguarda il tratto di strada parco che insiste sul comune di Montesilvano, il sindaco De Martinis. Si stanno in qualche modo inquadrando tutte le soluzioni, come dicevo poc'anzi, volte a regalare ai turisti e ai cittadini l'egevolazione in questo senso. Non a caso nei giorni scorsi mi sono sentito con il Presidente della Provincia, proprio per richiedere l'uso dell'aria a fianco alla Stella Maris, che per tanti anni è stata adibita proprio a parcheggio per i turisti. Si valuteranno anche altre ipotesi, potrebbe anche essere presa in considerazione questa soluzione, come del resto adottata da Pescara negli anni, ma vanno fatte tante valutazioni di carattere legato al viario, ma anche ad altre valutazioni relative alla conformazione del territorio. Però oggi ci sono altre grane in realtà che sono molto più incombenti. la sicurezza per quello che riguarda alcuni tratti del nostro territorio, il cartello delle venti estivi che necessitano di una composizione, ma anche tante altre situazioni legate al decoro urbano. Su queste stiamo puntando più che sui parcheggi, perché i parcheggi in fin dei conti ci sono e ci sono stati ad oggi abbastanza adeguati.